Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori. Lunga vita alla Leda! Per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca. Mi serve che la porta sulla linea dolciuta. E quando le serve? Ieri. Da Gianni Arbotta, buongiorno. Da oggi lavorerò con te. Non voglio nessuno, non mi serve nessuno. Mentre l'anno alla prova. Ma dove cazzo è sta banca? È questa, la banca. Questa sofferenza è momentanea. Leda è un gioiellino. Vende una parte delle tue quote. Ma io non voglio vendere. Allora non venda. Così ci trascinerà a fondo. Tu c'è il modo di salire, lo trova sempre. Allora, com'è andata? I soldi non ci sono, Ernestino. Non ci sono più. Allora dove li troviamo? Qui rubiamo, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Entriamo in borsa. Ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni. Se lei avesse un milione di euro, chi vedebbe un prestito per comprare una macchina? Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bucconi? Io non rubo la mia società. Ma che c'entri tu? Io sono il capo. Fate sparire tutto. Presidente. Fate sparire tutte le carte. Grazie a tutti.